Ha rubato bottiglie di grappa e cibi di gran pregio insieme a due complici nel ristorante a due passi da casa dove aveva cenato la sera prima e ha brindato con loro dentro il locale per festeggiare il colpo appena messo in atto. L'episodio è accaduto lo scorso anno ed è stato rievocato in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Savina Poli e al PM Bernardo Albergotti. Secondo quanto riferito in aula, l'uomo un 57enne di Monte San Savino avrebbe cenato la sera prima del furto in un noto ristorante del paese della Val di Chiana scegliendo di bere una grappa di una qualità speciale e di consumare cibi di prestigio. Durante la notte il ristorante era stato derubato di una serie di bottiglie di grappa della stessa marca e di vino, nonché di 120 kg di carne chianina, 60 bottiglie di coca cola e una cornice digitale con chiavetta inserita. Al mattino dopo il proprietario si è ricordato del cliente e ha spedito i carabinieri a casa di quest'ultimo. I militari hanno ritrovato parte della rifurtiva e denunciato l'uomo che ha già patteggiato la pena. Nei guai sono finiti però anche i due complici, un 31enne e un 27enne romeni con i quali aveva messo a segno il furto, brindando poi dentro il locale al misfatto appena compiuto. I due giovani romeni sono comparsi davanti al giudice sono stati condannati a sei mesi e a 300 euro di multa.